Buongiorno ragazzi, sono le 12.28 e io sto andando in palestra, oggi è una giornata alquanto uggiosa, tempo veramente molto coperto, allenamento petto, precipiti e addome. Ci vediamo dentro e dai, veloce veloce perché è una scheda tutto e il resto è forse. A dopo! Ragazzi siamo dentro, allora partiamo con una panca alta, bilanciere, facciamo un rest pose, io metto, non erro, 15 kg per lato perché sono 6 serie rest pose e quindi rischio di morire. Grazie a tutti! Ora ci andiamo a fare estensioni su panca inclinata a 60 gradi, sempre il resto pose. Parto con un 14 fili, penso di potercela. qui sono seduto un attimo, panca piano, bilanciere, sempre il resto pose. fatto con 15 minuti per lato, ho la speranza di non soccombere perché sono sempre 6 micro serie. a presto! a presto! a presto! bellissima questo giallo con il mio bianco abbiamo finito il petto e andiamo adesso a fare una french press bilanciere con panca a 45 gradi seguitemi a 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 30 minuti tendenza 15 per cento velocità 5.0 30 minuti ve l'ho detto e dopo di che spontino e casa mi mi compagnere non passa male forza e quindi niente sono entrato che in palestra il tempo ero giusto ma almeno non pioveva sono scelto uscito con l'ombrello ragazzi il video finisce qui mi auguro vi sia piaciuto e fatemelo sapere con i commenti un pollicione su iscrivetevi al canale condividete il video bla 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 un bacio da luca alla prossima